Il parco ha una storia particolare, una barcensità particolare. Come dicevi, voi volete un po' fare in modo che non vadano perse le radici, non vadano perse gli elementi anche di una comunità che è stata significativa. Siamo una famiglia di contadini, qui eravamo in una bella casata. Piano piano, piano piano, sono andati via tutti. Erano le piccole case, non tutte abitate. E si riempie, riempie, riempie. La storia di Barco si intride completamente della forza del suo confine. Il castello voleva dire, i castelli non li immaginiamo noi, così. Io sono nata lì, ho 68 anni, quasi 69 aprile. Noi siamo gente di confine. Le allegorie, nessuno dà una spiegazione, tutti hanno il loro motivo. Trovo Bergomi e lo saluto. Tornerei indietro ancora per provare quelle emozioni che ho provato. Non ti dimentichi più. Non ti dimentichi più.